Saranno consegnate nei prossimi giorni al prefetto di Sernia, Fernando Guida, le coppie dei certificati elettorali raccolte ieri a Venafro nel corso della manifestazione contro l'inquinamento e a difesa della salute pubblica. La prossima volta bruceremo i certificati veri, minacciano appunto gli organizzatori del comitato spontaneo. Ora basta. A Venafro quella di ieri è stata una domenica pomeriggio all'insegna di una iniziativa simbolica per destare le coscienze e tornare a sollecitare la classe politica sulla questione dell'inquinamento della piana. Raffaele Siano, semplice ma non comune cittadino, supportato dalla sua famiglia, aveva invitato la popolazione a consegnare copia firmata della tessera elettorale. Quanto raccolto, nei prossimi giorni sarà inviato all'attenzione del prefetto di Sernia, Fernando Guida, riconosciuto dallo stesso Siano, portavoce del comitato spontaneo Ora Basta, quale punto di riferimento nella battaglia intrapresa a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ieri da Piazza Cimorelli, rinnovate alle istituzioni politiche, fin qui tacciate di immobilismo e alla magistratura, le cinque richieste che costituiscono il fulcro delle rivendicazioni del comitato. L'anno scorso noi abbiamo fatto una manifestazione contro l'inquinamento. Successivamente a questa manifestazione noi abbiamo chiesto agli organi competenti, alla classe politica delle risposte. Bene, a un anno di distanza non abbiamo ricevuto nulla. Serviva a dare un segnale forte e per questo noi siamo qua a raccogliere le fotocopite, le schede elettorali come un'azione simbolica, ma sia di monito alla classe regionale, alla classe politica tutta, affinché si attivino fattivamente a risolvere i nostri quesiti. Le cinque domande le conosciamo tutti quanti. L'aggiornamento dei registri tumori, l'adeguamento delle centraline di rilevamento delle polvere sottile al 2.5, che si faccia qualcosa per alleggerire il traffico pesante sul centro abitato di Venafro, di sapere i risultati dei due camion che sono stati fermati a fine dicembre, e in ultimo abbiamo chiesto che si faccia un vero studio epidemiologico sul nostro territorio. Per completezza di informazione precisiamo che il riferimento di Siano ai camion è relativo all'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Sernia su ceneri sospette trasportate da due rimorchi, sequestrati nel novembre 2016 e nell'aprile 2017, provenienti dall'area industriale di Pozzigli e diretti verso un cementificio. Questa e le altre richieste dunque, rinnovate ieri dalle centinaia di persone che hanno aderito all'iniziativa. Probabilmente gli organizzatori speravano in numeri anche maggiori. Piazza Cimorelli non era certo gremita, anche perché molti dei partecipanti, consegnata copia del certificato, andavano subito via. Ancora per qualche giorno sarà possibile aderire all'iniziativa, contattando direttamente il comitato. Intanto il messaggio è stato lanciato. E a proposito di atti simbolici, la manifestazione si è conclusa con il rogo di una di quelle copie di tessera elettorale. La prossima volta bruceremo quelle vere, ha promesso minacciato Siano tra gli applausi della gente.